ciao a tutti torna dalla keymaster partita rapid 10 più 0 2311 abbiamo i pezzi bianchi e quindi qualcosa mi dice che giocheremo la care vecchia mises vediamo un po se funziona attendiamo il nostro avversario ed arriva subito f5 mossa aggressiva prima di sbilanciarci con d3 allora procediamo subito con l'arrocco e poi guadagniamo il pedone semplicemente qui vediamo come anche un giocatore dal rating pari a 2252 possa perdere un pedone in apertura e adesso noi d4 la giochiamo visto che non abbiamo più l'alfiere campo chiaro quasi quasi altiere g5 non mi sembra nello spirito della posizione sviluppiamo prima il cavallo di donna la casa e4 ovviamente è ottima per il cavallo f6 cercheremo in qualche modo di contrastarla possiamo giocare benissimo b3 con l'idea alfiere b2 in maniera tale da ostacolare in qualche modo la spinta nera in c5 perché altrimenti il nostro alfiere in b2 diventerebbe una forza qui direi che alfiere b2 è nello spirito della posizione continuiamo a proteggere la casa e5 forti del nostro pedone in più e adesso qui doppiamo i pedoni neri sulla colonna g e possiamo giocare cavallo e5 dopo f per g4 contando anche sulla difesa oltre che del pedone anche dell'alfiere ora il nero coerentemente con la sua prima mossa f5 si lancia allo sbaraglio la migliore reazione che può avere il bianco è attaccare al centro nel caso specifico il pedone in g6 cambiamo in d7 e adesso e4 e vediamo come di colpo il bianco possa contare su una maggioranza al centro due contro uno è anche un certo vantaggio di spazio qui addirittura possiamo sia sviluppare una torre in e1 oppure spingere anche in e5 questa mi piace di più lasciando il pedone nero in d5 questi due pezzi pesanti risultano meno forti sulla colonna d ovviamente qui le intenzioni del nostro avversario sono più che evidenti e adesso torre a e1 e in alcune varianti minacciamo e6 il nostro avversario ovviamente cerca di impedircelo però in questo modo la pressione raggi x su d4 è minore e quindi ben volentieri giochiamo una mossa come c4 qui il nostro avversario attacca con tutte le sue forze noi non siamo da meno mi aspetto un donna per d5 scacco a cui segue semplicemente donna e4 non dobbiamo temere la spinta in h3 anzi il fatto che il nero si sia sbilanciato con questi due pedoni doppiati sulla g quindi fai il gioco del buon lucky e adesso facciamo i conti questo pedone il pedone e5 è fortissimo la torre centralizzata in e4 attacca g4 che peraltro sembra indifendibile questo alfiere ai raggi x difende e5 e in alcune varianti si minaccia anche d5 io intanto catturo il pedone in g4 poi posso sfruttare l'inchiodatura sul pedone g5 in quanto il nero non ha g per f4 pena torre per g8 e questo alfiere che di solito per il nero una forza in realtà è semplicemente un ostacolo che separa le due torri e adesso qui possiamo spindere sfruttando la posizione della torre f1 e questo pedone secondo me di strada ne farà e anche tanta perché guadagniamo un tempo attaccando l'alfiere in e7 e poi abbiamo anche la minaccia f7 che attacca le due torri bellissima e qui direi che la partita si può anche considerare conclusa e infatti il nostro avversario abbandona ci chiede la rivincita e gliela concediamo let's go a6 b5 un classico ormai miles ha fatto da apripista a questa variante della san giorgio e noi lo seguiamo con molto piacere premiamo su e4 teniamo d'occhio la casa e5 e liberiamo la casa d7 per il nostro cavallo di donna la casa d5 è sempre un'ottima stalla per il nostro cavallo di re qui adesso dobbiamo fare attenzione non tanto a c4 perché abbiamo subito b per c4 quanto b3 e poi c4 comunque al momento possiamo giocare semplicemente cavallo d7 poi la cavallo h5 con pressione su g7 è davvero molesta è arrivato il momento di arroccare e anche lesti donna c8 andrebbe a di te qui è praticamente forzata attacchiamo il cavallo h5 anche se al momento g6 è inchiodato dalla donna questo pedone deve essere eliminato potrebbe seguire una f6 molto fastidiosa ma anche un cambio in g6 quindi catturiamo in f5 ok si attacca adesso il cavallo in d7 in forze alfiere c8 mi piace il nostro alfiere in d7 ha fatto il suo dovere e adesso corre in soccorso del cavallo d7 attaccato due volte dal bianco non soltanto ma questo alfiere attacca anche raggi x la donna in d4 la quale inchioda il pedone g6 che attacca due pezzi minori quindi adesso il bianco deve comunque fare i conti con la presenza di questo alfiere che è considerata l'attuale posizione devo dire che svolge un ruolo molto importante pur essendo tornato nella sua casa di partenza partita decisamente interessante medio gioco tipico della san giorgio ok qui su torre 8 dobbiamo valutare cavallo g7 anche se in realtà noi abbiamo anche un cavallo per i 5 ah però c'è la torre annaggia annaggia peccato peccato veramente cavallo per i 5 pedone per i 5 alfiere per i 5 per f5 torre per f5 non ci siamo però se l'alfiere mangia noi abbiamo anche in alcune varianti cavallo e 3 attaccando donne e torre la posizione è davvero interessante eh qui cavallo f6 non funziona sempre per via di quella torre andata andata sgretoliamo il centro al costo della qualità ok qui abbiamo diverse chance però abbiamo anche cavallo e3 però abbiamo anche cavallo e3 il problema è però alfiere per f7 per e7 che attacca la donna in d8 riprendiamo di alfiere andata andata sacrificio di qualità per the lucky master come pedoni al momento ne abbiamo uno in più è da dire che abbiamo l'alfiere camposcuro che non è contrastato dall'alfiere di donna del bianco la partita è decisamente interessante ogni risultato è possibile il bianco deve ancora completare il suo sviluppo del lato di donna il nero minaccia intanto cavallo e3 con attacco triplo a torre f1 donna g4 e alfiere f5 la donna in e3 in f3 controlla e3 e soprattutto preme su f7 non solo ma attacca anche il cavallo in d5 eh già e qui bisogna fare attenzione ad eventuali tripli perché l'alfiere può eliminare d7 la donna può eliminare d5 e poi con questo scacco il bianco recupera tutto con gli interessi quindi dobbiamo fare davvero molta molta attenzione una possibilità potrebbe essere legata ad alfiere b7 però dopo alfiere per g6 f per g6 f7 scricchiola con effetti devastanti cavallo f4 non può essere giocata perché abbiamo anche la torre in a8 in big trouble e quindi qui mi sa che l'unica è c6 ma c'è sempre il problema di alfiere g6 la debolezza delle case chiare del nero è veramente tostissima eh non è per niente facile questa posizione lo ammetto cavallo f6 cavallo 7 in f6 non piace assolutamente purtroppo scricchiola tutto in particolare questa f7 di 5 a 8 queste sono le case critiche salvare tutto è veramente un'impresa 4 minuti e 33 catturare prende in d5 e si attacca in f7 in a8 e non ci siamo andata alfiere b7 via e adesso qui andiamo incontro ad alfiere per g6 e poi cerchiamo comunque sia di controllare in realtà no perché comunque c'è anche alfiere per donna per d5 donna per d5 cavallo f6 scacco re g7 cavallo per alfiere per scambio di pezzi che dovrebbe vedere il bianco in vantaggio intanto la donna tiene f7 almeno il disattore immediato è evitato è tostissima il nostro avversario ha giocato con grande spirito di iniziativa e i risultati oggettivamente si vedono un plauso al bianco qui potrebbe esserci anche un cavallo f6 con idea cavallo per f6 e donna per b7 e si attaccherebbe anche il cavallo in f6 con la torre e la torre in a8 con la donna e anche questa sarebbe il problema è che sarebbe comunque forzata su cavallo f6 del bianco cavallo per f6 avremmo un donna di 4 scacco però non credo che funzionerebbe questa è forzata è quella che riduce in qualche modo lo svantaggio materiale e qui ci ritroviamo comunque sia con una qualità secca in meno e bisogna anche fare attenzione alfiere b4 beh però alfiere b4 su torre d1 infilata ma abbiamo alfiere per b2 quindi forse forse niente niente non riusciamo a salvare il salvabile qui possiamo o mantenere in gioco la coppia degli alfieri oppure giocare subito alfiere per c3 indebolendo la struttura pedonale però l'esperienza insegna che è meglio mantenere la coppia degli alfieri rimane più molesta per l'avversario ok b4 attacchiamo il cavallo in c3 e diamo la possibilità all'alfiere di giocare alfiere per b2 sempre che sia conveniente giocarla ok attacchiamo adesso qui dobbiamo capire ma quel cavallo lì non è ben piazzato giochiamo alfiere c5 coerenti con quanto detto prima cerchiamo di mantenere la coppia degli alfieri in gioco della keymaster in svantaggio della qualità ci sono ben pochi compensi al riguardo continuiamo ad avanzare con i nostri pedoni in qualche modo dobbiamo anche giocare un torre di 8 pressione su a2 ok pressione su e1 pressione su a2 continuiamo a premere contro i pezzi e i pedoni del nostro avversario questa volta con alfiere c5 cavallo d5 ahimè attacca e qui dobbiamo giocarla purtroppo a mal in cuore nooo 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 questa è brutta non la vede il nostro avversario buon segno purtroppo torre b8 non funziona per via di cavallo per a4 a3 premiamo su b2 ci liberiamo di una debolezza e indeboliamo la posizione del cavallo c3 eh pardon riprendiamo di alfiere con la minaccia alfiere b2 eh è tosta eh tra l'altro il nostro avversario è anche in vantaggio materiale però oltre che di tempo però questo pedone è destinato a cadere e da come sta giocando questo finale non mi sembra che si senta particolarmente a suo agio quindi forse forse riusciamo comunque a salvare un mezzo punto intanto attacchiamo la torre a1 e il pedone e5 e anche il pedone in a2 si trova in big trouble attaccato dalla torre a8 e l'alfiere in e6 alfiere in e6 che potrebbe andare in d5 a premere su g2 quando parlavo eh del vantaggio costituito dalla coppia degli alfieri intendevo anche posizioni di questo tipo vediamo anche come eh lo svantaggio di tempo del buon lucky master sia diminuendo abbiamo visto come il nostro avversario abbia attaccato con grande efficacia il nostro re nel medio gioco medio gioco in cui il nostro eroe eh si è trovato a mal partito c'è anche da dire come il finale sia l'ambiente giusto per il nostro lucky e addirittura qui il nostro avversario restituisce la qualità restituisce la qualità è una cosa importante ma noi vista la situazione guadagniamo prima il pedone in e5 abbiamo mantenuto la pressione su a1 adesso miglioriamo la posizione del nostro alfiere di donna che di colpo è ritornato protagonista torre a7 con l'idea di bloccare quanto prima la marcia del pedone bianco libero a e adesso andiamo a centralizzare il nostro re attraverso le case scure re e5 mi sembra ottima l'alfiere non potrebbe essere piazzato meglio e adesso il nero si ritrova con un pedone in più questo è libero questo è libero e sul lato di re abbiamo una maggioranza di 3 contro 2 re e di 6 ci piace h5 qui adesso dobbiamo mettere il turbo contro gioco togliamo il sostegno al nostro alfiere per controllare b4 e d4 qui dobbiamo farci inchiodare il nostro alfiere il tempo stringe purtroppo alfiere c6 è bene che questo alfiere controlli a 8 ma quella re c4 è brutta purtroppo come ci difendiamo? non ci difendiamo 45 secondi per laki master contro 1 minuto e 25 per il nostro avversario scappolo diamo volentieri qui in qualche modo bisogna provocare il bianco facendogli giocare a 6 con l'idea di bloccarlo poi su casa chiare ed attaccarlo anche col nostro alfiere posizione tesissima considerata la situazione precedente il buon laki ha fatto veramente miracoli 38 secondi e va bene e qui diamo la possibilità al bianco di cambiare il suo cavallo per il nostro alfiere difendiamo questo alfiere ok qui è il re che adesso deve occuparsi di stoppare con i denti il pedone libero del bianco adesso dobbiamo lesti tornare verso il lato di re scaccolo diamo volentieri cambiamo subito ben volentieri prendiamo l'opposizione f6 19 secondi forse forse siamo riusciti forse forse siamo riusciti in un'impresa nella quale neanche il buon laki sperava fantastico 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 esausto della chi master supera i 2320 a malincuore non accetta la richiesta di rivincita del nostro avversario che partita grande rientro di dalaki master dopo la pausa di ieri spero che questa doppia partita vi sia piaciuta se si mettete un like e che dire divertitevi buona serata fantastico continua la corsa ciao fantastico ciao ciao ciao